Con l'inaugurazione dei nuovi corsi di studio presentati ieri presso il Polo Universitario di Agrigento in collaborazione con quella di Palermo, ha inizio un nuovo percorso formativo stabile e di questo bisogna ringraziare la nuova governance. La nuova offerta formativa darà la possibilità in maniera continuativa ai nostri giovani di studiare e laurearsi senza affrontare onerosi spesi di frequenza nelle altre città isolane e spesso anche fuori dalla Sicilia. Questo è quanto affermato dal primo cittadino di Aragona, Giuseppe Pendolino, che ieri ha presenziato all'incontro. Tale pensiero è comune ai tanti soggetti che hanno contribuito con il loro lavoro e impegno quotidiano al raggiungimento di tale traguardo. Sono stati anni difficili, terribili, perché io sono qua in questo Consiglio di amministrazione e dal 2012 posso considerarmi orbaimente storica. Quindi ho vissuto tutte le fasi, dalle più critiche a quelle che oggi invece ci vedono in una fase positiva di crescita. Oggi finalmente, dopo anni di lavoro, si segna il passo verso la ripresa dei rapporti con l'Università nostra e il riferimento che è Palermo. Oggi il magnifico Rettore è venuto qui a confermare questa nuova forte e grande collaborazione tra Consorzio Universitario e Unipa e oggi si presentano questi nuovi corsi di laurea che rischiscono certamente l'offerta formativa del nostro territorio. Oggi quello che presentiamo qui è l'offerta formativa dell'Università di Palermo che riparte per l'anno accademico 2019-2020 con tre nuovi corsi di laurea, Scienze dell'Educazione, Economia e Scienze dell'Amministrazione, Architettura dell'Ambiente Costruito e rimane inoltre il corso di studi di servizio sociale. Questa rinascita del polo di Agrigento è dovuta alla sinergia fondamentale tra regione, università e consorsi che hanno portato all'emaniazione di provvedimenti legislativi che garantiscono nel tempo la stabilità finanziaria e danno la possibilità alle università siciliane di implementare l'offerta formativa nei poli decentrati. Sicuramente è una giornata molto importante per la città e per il territorio questo corso che si riattiva da Agrigento, un corso triennale è una grande opportunità per la città, per gli studenti e soprattutto si garantisce il diritto allo studio a chi non ha avuto in questi due anni la possibilità di poter frequentare un corso di laurea e di iscriversi quindi all'università. Oggi veniamo qui a rappresentare la massima attenzione di tutti gli organi di governo dell'Università di Palermo ad Agrigento, agli studenti di Agrigento, alla città di Agrigento perché adesso ci preoccupiamo di rilanciare questa sede attraverso nuovi corsi di studio è un impegno importante per i nostri docenti che verranno qui con grandi sacrifici a offrire un'offerta didattica importante per la città e per i giovani di Agrigento. Detro l'angolo c'è finalmente una nuova governance nella misura in cui la Regione ha stabilito che il Consorzio Universitario adesso in Pedocle sarà diretto per i prossimi anni da un rappresentante della Regione con la funzione di Presidente, Super Partes, da un rappresentante dell'Ateneo Palermitano e da un rappresentante del territorio, anche un GDI molto snello, l'offerta formativa adesso sarà in automatico proposta dall'Ateneo Palermitano. Quindi non ci saranno più quei problemi di chiusura di corsi ma si riparte praticamente già dall'anno prossimo con almeno quattro corsi di laurea. Adesso ci sarà la presentazione in aula crescente, quindi di nuovo servizi sociali, di nuovo architettura, di nuovo giurisprudenza e di nuovo una materia di natura economica. Un forte rilancio per tutti i giovani della nostra provincia. Tanto la Regione entra da protagonista garantendo quello che è la serenità economica per il funzionamento del Consorzio. si rilancia l'offerta formativa con un ritorno da parte dell'Università di Palermo ma non solo, come sapete bene, ci sono altre interlocuzioni. Per il futuro si stava lavorando e lasciamo in Work in Progress un corso di laurea che si parlerà di gastronomia, quindi scienze proprio gastronomiche che è importantissimo. Si può legare il territorio a quello che è questa peculiarità, turismo, cibo e quant'altro. Si continua intensificando il rapporto con gli istituti superiori, già ci sono in Progress attività di alternanza scuola-lavoro, ci sono progetti PON in comune. Si cerca di consolidare il rapporto del territorio con il Consorzio Empedico proprio per poter arrivare a dare una possibilità ai nostri giovani e non devono necessariamente andare via.